eccoci qua ragazzi ben ritrovati in questo nuovo capitolo del corso oggi andremo a vedere come comprimere la voce quindi come creare un buon suono di voce con i compressori equalizzatori fondamentalmente andremo a vedere più il lavoro della compressione quindi andiamo a sentire subito questo brano che ho qua diamo un'ascoltata su quello che il timbro della voce vedete che è molto dinamica c'è una prima parte molto morbida qui spinge molto qui è medio come interpretazione intendo come spinta e qui spinge di più quindi intanto sentite che c'è molta differenza fra questa parte qua e questa ce n'è veramente tanto sentite e questa allora come prima cosa andremo a creare una compressione prima della compressione andiamo a vedere un attimo di cosa si tratta l'equalizzatore che andremo a mettere prima del compressore perché perché ci sono certe come parlavo in un altro video ci sono certe consonanti che possono diciamo creare uno spostamento d'aria per il quale il compressore va a lavorare molto come ad esempio le p come soprattutto le p sono queste qua per evitare di far lavorare il compressore su cose che fondamentalmente non sono così importanti per la per il timbro della voce io vado a togliere queste p appunto dalla come frequenze quindi andrò a togliere completamente tutto quello che è sotto i 50 e 60 hertz comunque sono frequenze che nella voce sono abbastanza irrilevanti questo per fare in modo che il compressore non vada a lavorare prima di tutto su queste frequenze dovute appunto spostamenti d'aria del microfono quindi andiamo a mettere un equalizzatore prima e poi un compressore una cosa utile da fare sarebbe quella di andare a lavorare prima da un punto di vista timbrico sul suono poi da un punto di vista di volume timbrico che significa bene o male dovrebbero avere lo stesso suono tutta l'esecuzione quindi prendiamo come riferimento quello che va dalla battuta 17 alla parte alla battuta tipo 55 quindi dove c'è appunto questo gap di volume molto elevato vado a tagliare con logic alcune parti quindi vado come prima cosa andrò a cambiare il gain della parte della prima parte quindi andrò a alzare la prima parte abbassare un pochettino la seconda questa va bene e poi vado ad abbassare queste parti qua che sono piuttosto alte questo per quale motivo non tanto per rendere omogeneo adesso qui l'ho fatto troppo magari posso fare 3db e qui posso anche diminuire un po' di meno anche perché comunque è palese che questa parte qua deve essere cantata più piano per quale motivo perché voglio fare in modo che il compressore a livello timbrico lavori in maniera omogenea su tutta la parte della voce quindi andiamo a sentire la parte dove spinge di più il cantante e che all'incirca è questo allora una buona reti per quanto è la voce è a circa 3,1 quindi 3,2 3,1 all'incirca è buono poi andiamo a stabilire quando entrerà il compressore a lavorare diciamo che l'attacco lo lasceremo attorno ai 15 millisecondi e il rilascio va bene anche 40 millisecondi quindi questi sono due parametri piuttosto buoni voglio utilizzare per la voce un effetto oppure sentiamo anzi lasciamo un ottico lasciamo appunto un compressore ottico che ha delle caratteristiche più morbide quindi degli attacchi più lenti sentite come spinge molto sulle S andiamo subito a mettere un DeSser qui possiamo utilizzare anche quello della Waves DeSser quindi andiamo a sentire sentite come l'ha ammorbidito qui è fissato di default a 5.506 Hz direi che va bene questa regolazione del compressore ci dà un suono anche nella prima parte anche se non si vede che sta lavorando in realtà sta un po' lavorando facciamolo lavorare un po' di più qui si vede ok posso aumentare di più il gain in questa parte qua per fare in modo che lavori in maniera omogenea su tutta la parte del compressore ok a questo punto questa regolazione qua diciamo che può andare più o meno bene per quanto riguarda la prima fase di compressione la voglio copiare anche su quello che è il coro questo qua è il coro vediamo quindi andiamo a rendere un po' più omogenea i gain appunto dei cori quindi andiamo a sentire di che cosa si tratta e non facciamo altro che copiare quindi con il tasto alt e il mouse copiamo spostiamo i plugin da una parte da una traccia all'altra e qui abbiamo le due tracce esattamente identiche ok quindi a questo punto io questa voce e il coro l'andrò a mettere sul bass su un bass libero come ad esempio il bass 18 e su questo bass 18 andrò a comprimere ancora una volta per compattare ancora meglio le due questa volta lo farò con un compressore fa filter che è un compressore molto morbido e con un preset che utilizzo solitamente che è questo qua control andiamo a stabilire una rete molto più bassa qui attorno ai 2 barra 1 l'attacco lo lascio attorno ai 7 millisecondi perché voglio schiacciare la parte iniziale che ho lasciato intatta all'inizio e release più corto quindi andiamo a sentire ok posso utilizzare un altro ds ds non lo uso in questo caso per togliere le s come nel primo esempio quando ho utilizzato appunto questo ds della waves dove ho tolto proprio le s quindi frequenze che vanno dai 5500 in su qui voglio togliere la parte media quindi quando spinge la parte più mediosa qui questa parte qua questa è una parte più ok lo sentite anche quando fate la prova le frequenze che vi danno più fastidio e questo qui l'ha ammorbidita molto posso ancora una volta mettere un altro ds per togliere ancora un po di s che sono rimaste soprattutto perché quando vanno sommarsi con i cori aumentano ancora di più le s quindi andiamo a sentire esatto più ho esagerato un po con questo diciamo che la voce in questo caso è più o meno pronta per passare allo stadio successivo che quello dell'equalizzazione perché una volta che viene compressa si inizia a lavorare su quello che è l'equalizzazione quindi andare andare dare un po di chiarezza un po d'aria un po di corpo ma lo vedremo lo vedremo in un'altra puntata per quanto mi riguarda qui volevo concentrarmi più sul discorso della compressione ovviamente una volta che poi si aprono proprio anche i discorsi dell'equalizzazione vanno modificate anche le prime compressione perché noi adesso facciamo una regolazione della compressione senza l'equalizzatore ma una volta che viene introdotto anche l'equalizzatore quindi andremo a aumentare ad esempio le frequenze acute noi dovremo andare a lavorare ancora di più su quelli che sono gli attacchi quindi magari lavorare con un multibanda su certe frequenze più acute piuttosto che in altri bene ci vediamo al prossimo appuntamento grazie